Italiano in coppia amante dell'arte e dell'enogastronomia, è questo il profilo del turista che ha deciso di trascorrere la Pasqua d'Arezzo tracciato dalla Confcommercio. Nel weekend pasquale molti hanno scelto come meta la nostra città, che anche se non ha visto il tutto esaurito, può comunque tracciare un bilancio più che soddisfacente, archiviando la Pasqua 2016 con un tasso di occupazione intorno all'85%, vale a dire che su 10 camere almeno 8 erano occupate dai clienti. Buoni anche i risultati per i bed and breakfast cittadini. Si può essere soddisfatti del risultato che tra Pasqua alta, incognita, temperature, allarme e terrorismo non era affatto scontato, dice la responsabile dell'area turismo Laura Lodone. Peccato per il mancato tutto esaurito, sarebbe stata forza la nostra portata con un evento di traino e miglior promozione. La permanenza media si è attestata intorno alle due notti, ma sono stati soprattutto i nostri connazionali a movimentare il fine settimana. Oltre il 90% infatti era italiano. Ma è sempre così per Pasqua continua Laura Lodone. Il banco di prova del turismo internazionale da noi sarà la Pentecoste, la vacanza tradizionale per il nord Europa. Destinazioni piccole e meno frequentate dal turismo di massa come Arezzo sono comunque considerate più sicure rispetto alle grandi città. La maggior parte dei clienti apparteneva al segmento del turismo individuale, non a quello del turismo organizzato. Gli alberghi hanno così applicato le tariffe normali, permettendo quindi di avere una giusta redditività. Questo ha dato un po' di respira agli operatori, che non dimentichiamolo dal 2010 al 2015, conclude Laura Lodone, hanno perso 10 euro di redditività a camera. Ottimi risultati anche per la mostra. Gli etruschi, maestri di scrittura, al Mike di Cortona, che solamente nei primi 11 giorni di apertura ha fatto registrare 2.500 ingressi. Un aumento consistente soprattutto nei giorni pasquali del 77% rispetto ai dati del 2015. Nei giorni delle festività appena trascorsi sono stati infatti 1.226 gli ingressi al museo.